Se si rompe i coglioni ve le canta e ve le dice e ve le suona anche, punto. Per cui questo è Luigi Palamara, questo è l'arcere. Non le mando a dire, non ho tempo da perdere, ho 63 anni, quindi non ho tempo da perdere con la falsa gentilezza, con la falsa educazione, proprio zero. Chi mi rompe i coglioni o chi non mi piace lo accantono. E viceversa potete farlo anche voi, ma ci mancherebbe pure. Però bisogna vivere la vita, la vita genuina, sana, vera, altrimenti che cazzo di vita è? Se dovete essere sempre servi alla ricerca di nuovi padroni, ma che cazzo di vita è? Per quattro lire vi vendete, ma che cazzo di vita è? Ma che cazzo di vita è? Ma che cazzo di vita è? Una buona giornata.